Salve a tutti gli utenti di Ever.EI e bentornati sul canale. Oggi siamo qua per trattare le scorestreak di Advanced Warfare. Partiamo col presupposto che le scorestreak si accumulano uccidendo i nemici. Più uccisioni faremo senza morire e più scorestreak riusciremo a raggiungere più potenti. Questo Advanced Warfare qua implementerà una nuova funzione delle scorestreak ovvero come noi ben sappiamo ci saranno 13 slot disponibili. Noi queste 13 slot qua potremo utilizzarle o per mettere dei perk o addirittura mettere delle scorestreak quindi potremo scegliere se mettere le scorestreak o meno quindi saranno facoltative. In più ci sarà una carta o un perk che ci darà la possibilità di sbloccare una quarta slot che avrà un costo aggiuntivo però ci darà la possibilità di utilizzare 4 scorestreak al posto di 3. Ogni uccisione ci darà dai 50 ai 100 punti a seconda della modalità. Mentre completando gli obiettivi durante la partita avremo la possibilità di accumulare più punti velocemente come ad esempio portare una bandiera nemica al nostro punto ci darà 150 punti. Poi ci sarà il vantaggio che se utilizzeremo il perk hardline ovvero sarebbe inflessibile ci darà la possibilità di diminuire il costo di ogni ricompensa e quindi riusciremo a prendere le nostre ricompense più velocemente ma consumando un perk che magari ci potrà servire. Killstreak in Advanced Warfare possono essere personalizzate quindi questa è una novità personalizzate come ad esempio l'UAV può essere aggiornato per rivedere i nemici più velocemente. Quindi non solo avremo il nostro UAV come l'abbiamo utilizzato su Mv3 o addirittura su Ghost ma il nostro UAV potrà compiere più funzioni. Però per compiere queste funzioni qua avrà il dovere di avere 200 punti in più. Faccio un esempio se noi vogliamo scansionare i nostri nemici più velocemente con l'UAV al posto di prenderlo l'UAV a 400 punti lo dovremo prendere a 600 punti. Però arrivando a 600 punti avremo una funzione in più su questo UAV ma questo non è solo l'unico vantaggio che possiamo avere sull'UAV. Alcune killstreak come l'UAV e l'Orbital Car Package che sarebbe l'approvvigionamento possono essere utilizzate anche in versione supporto come ricordate in Mv3. Quindi supporto è quella possibilità che se voi morite potete comunque sia prendere le vostre scorestreak accumulando le kill. Anche facendo un'uccisione e una morte al raggiungimento di un tot di kill voi sbloccherete quel perk. Adesso andiamo a trattare le scorestreak e vediamole nel dettaglio. Allora partiamo subito con l'UAV, l'UAV ci fa individuare sulla minimappa i nostri nemici con una scansione ogni tot di secondi. La seconda è il drone di ricognizione che ci fa segnalare i nemici sulla mappa marchiandoli come Mv3. Quindi se ricordate su Mv3 noi avevamo questo drone che andava in giro per la mappa che noi guidavamo e potevamo segnalare i nostri nemici sulla mappa. Terzo è l'Orbital Car Package ovvero come detto prima l'apprevisionamento che ci darà la possibilità di avere una valigetta con all'interno una scorestreak casuale o una ricompensa speciale di ogni mappa. Come ad esempio su Strike Zone la prima ricompensa si aveva la cam. Quarto serie di uccisione è il drone di assalto. Il drone di assalto cos'è? È un Dragonfire di Ghost ossia andrà in giro per la mappa casualmente ad uccidere i nemici automaticamente. Quinto è il sistema hack. Purtroppo non abbiamo nessuna informazione in merito ma molto probabilmente sarà un sistema che andrà a disattivare tutte le torrette robot o tutte le cose elettroniche che i nostri nemici attiveranno. Sesta torretta robot. La torretta robot ormai c'è in qualsiasi Call of Duty una torretta che è controllata da una lunga distanza dove noi potremo scegliere a chi sparare tramite questa torretta qua. L'altro nuova serie di uccisione è l'XS-1 Vulcan. Si controlla manualmente e ha la funzione di sparare scariche elettriche dallo spazio tramite salta ellite. Quindi bisognerà buttarlo giù si presume con un lancia missili e sarà controllato da noi manualmente. Il prossimo è Bombardiere Stealth. Il Bombardiere Stealth bisognerà scegliere la posizione sulla mappa. Quindi apriremo la nostra valigetta e ci farà scegliere sulla mappa chi attaccare il punto sarà scelto da noi. Il prossimo è il Warbird. Controllato dall'alto con una mitraglietta. Noi saremo su questa mitraglietta qua e uccideremo i nostri nemici visti dall'alto. XS-1 Golia. Una sorta di Titan visto su Titanfall. Salendo ci darà la possibilità di avere una mitraglietta. Ma questo influirà sulla velocità del personaggio ma aumenterà la resistenza del personaggio stesso. Ultima Scorstrick che abbiamo potuto scovare è il Paladin. Si controllerà all'interno di un elicottero e sarà la Scorstrick più potente del gioco. Detto questo ragazzi spero che il video vi sia piaciuto. Vi invito sempre a lasciare un mi piace e a iscrivervi al canale. E ci vediamo con il prossimo video sulle armi di Advanced Warfare. Un saluto da JustRevenge.